Questa notte si è chiuso lo spoglio per le elezioni europee in tutti i seggi del Piemonte ed Italia. Naturalmente abbiamo già i risultati ufficiali pubblicati sul sito del Ministero dell'Interno. Il Partito Democratico in Piemonte ha avuto il 40,75% dei voti pari a 915.475 voti. Segue il Movimento 5 Stelle, 21,63% che corrispondono a 486.046 voti. Il terzo partito è Forza Italia, 15,76% pari a 354.114 voti. Quarto partito la Lega Nord che ha il 7,64% 171.750 voti. Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale 4,24% 95.289 voti. L'altra Europa con Cipras 4,14% 93.094 voti. Diamo ancora il risultato del nuovo Centrodestra Udc, 3,10%, 69.745 voti. Le altre liste minori, essendo sotto la soglia di sbarramento nazionale del 4%, non partecipano al riparto. Allo stato attuale possiamo dire che sui 19 euro parlamentari della circoscrizione Nord-Ovest, che oltre a Piemonte comprende anche le regioni Lombardia, Liguria e Valle d'Aosta, quattro saranno piemontesi. In particolare la onorevole Mercedes Bresso, già presidente della regione Piemonte, del PD con 100.616 voti di preferenza. Segue Alberto Cirio, attuale assessore uscente al turismo e all'istruzione di Forza Italia, con 34.971 voti. Poi ancora del PD, un altro eletto è Viotti, con 28.241 voti. Ultimo eletto europarlamentare eletto in Piemonte, Gianluca Buonanno della Lega Nord, con 26.610 voti. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS